Certo che c'è necessità, come si fa anche uscire? Di giorno ancora ancora, ma alla sera? Alla sera non si esce. Perfettamente d'accordo, perché i controlli non fanno mai male, ma deve esserci un controllo concreto però. Senta, ma qui che problemi avete nel quartiere? Cosa c'è? Io non sono qui nel quartiere, sento che ci sono parecchi drogati, parecchia gente non per bene. C'è brutta gente, e dico brutta gente così in generale, giri di droga, malintenzionati. Io ho un cane che porto fuori alla sera e ho paura, le dico la verità, e non sono contenta. Mi serve il controllo di vicinato? Direi sì, io lo faccio, perché quando vedo qualcosa che non va avverto. Ci sarà una persona, un referente per le forze dell'ordine? Me lo auguro, me lo auguro perché ce ne è bisogno estremo, stiamo cadendo sempre più in basso. Abito in via Gagliardotti, anche là alla sera è una cosa da mati. Cosa succede? Allora, come ha detto la signora, c'è un piccolo parco giochi vicino a noi, dove abito io. E alla sera entrano perché vedi la rete rotta e tutto. E dopo non puoi, se vedi qualcosa che è di non intromettersi perché... Ventono anche aggressivi. Sì, sì, dal terrazzo si vede, c'è proprio un'incuria, non puoi più dire guarda che non si deve fare questo, cioè gentilmente, perché se no... Sono tossicodipendenti, immigrati, c'è un po' di tutto? Un po' di tutto. Un po' di tutto.